Dove vedere la Messa delle Palme di orario e canale delle funzioni senza Papa Francesco. Papa Francesco quest'anno non potrà ufficiare la Santa Messa della Domenica delle Palme. Ma potrebbe essere presente durante la celebrazione della Santa Messa di Pasqua. Il sommo pontefice è attualmente ricoverato all'ospedale Gemelli a causa di un'infezione polmonare. Nonostante le sue condizioni di salute siano in ripresa, non gli sarà possibile celebrare la Messa di Domenica 2 aprile. Mentre potrebbe presiedere a quella di Domenica 9 aprile e impartire la benedizione Urbi e Torbi. Sarà comunque possibile assistere alla funzione religiosa in diretta su Rai 1. In assenza di Papa Francesco, la Messa della Domenica delle Palme verrà celebrata dal Cardinale Leonardo Sandri. La funzione religiosa si terrà presso la Basilica di San Pietro. Sarà possibile assistere al rito in diretta. Sintonizzandosi su Rai 1 alle ore 9.50. Per chi volesse assistere alla Santa Messa in streaming. Basterà collegarsi da smartphone, tablet o PC alla piattaforma Rai Play. La funzione religiosa di Domenica 2 aprile. Sarà disponibile anche su TV 2000 alle ore 10, mentre alle ore mezzogiorno ci sarà la recita dell'Angelus. Anche Canale 5, dunque, Mediaset Infiniti lasceranno spazio alla Santa Messa a partire dalle ore 10 di Domenica 2 aprile. Come riporta Rai News, il Cardinale Leonardo Sandri, che sostituirà Papa Francesco, ha fatto sapere. Sì, certamente, posso confermare che Domenica celebrerò la Messa delle Palme, sono stato avvertito già lunedì scorso dal Maestro delle Cerimonie Pontifice che i riti della Settimana Santa sarebbero stati celebrati ognuno da un Cardinale. E a me hanno richiesto la Domenica delle Palme. Mi auguro naturalmente che il Papa si rimetta e possa presiedere le liturgie come avvenuto in altre occasioni. Pur essendoci un Cardinale che ufficiava all'altare. La Santa Messa del giorno di Pasqua, Domenica 9 aprile, verrà ufficiata dal Cardinale Giovan Battista Re. Tuttavia, c'è l'auspicio che Papa Francesco possa presiedere alla cerimonia religiosa e che possa impartire la benedizione urbi e torbi. Come da tradizione, dalla loggia centrale della Basilica. La Santa Messa andrà in onda a partire dalle ore 9.50 su Rai 1 e su Rai Play. Dalle ore 10, invece, andrà in onda su Canale 5 e Mediaset Infiniti. Sempre dalle ore 10. La Messa di Pasqua andrà in onda anche su TV2000 seguita dalla benedizione urbi e torbi dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Ecco il piano completo predisposto dal Vaticano per le celebrazioni dei riti della Settimana Santa. Il Cardinale Giovan Battista Re ha dichiarato alla presse, il giorno delle palme celebrerà il vice decano. Il Cardinale Sandri. Il Giovedì Santo, al mattino ci sarà il Vicario di Roma. Cioè il Cardinal De Donatissi mentre alla Messa in Coenadomini ci sarà l'Arciprete di San Pietro. Il Cardinal Gambetti. Per il Venerdì Santo e la Via Crucis vedremo, alcune cose non sono ancora state determinate. La Notte Santa ci sarà uno dei Cardinali ma si deve ancora stabilire.